Musica All'antistadio di San Giovanni Marignano si affrontano Morciano e Perticara. I biancorossi sono chiamati alla vittoria per rimanere incollati al terreno playoff e conquistare posizioni nobili di classifica e di consueta tradizione. I Perticara invece ad ottenere più punti trasferte. L'inizio non promette certamente bene quando dalla sinistra il Morciano decora sfondando al centro con Gravina un assist al bacio che Longoni trasforma in oro trovando il vantaggio locale. 1-0 e partita in salita per I Perticara che tuttavia ha il merito di trovare il pareggio nell'immediato. L'azione si sviluppa dalla propria metà campo, lancia a cercare in profondità Bomber Girardi che seguito in vano dai difensori di casa non può fare l'arto che trafiggere in uscita Petrucci. 1-1 e ristabilita la parità in campo. I Perticara prende coraggio, Manenti ci prova direttamente a calcio piazzato, Petrucci blocca a terra. Poco dopo il velo di Girardi porta il tiro a Verardi, pallone fuori misura. Il Morciano replica con questo lancio di baffoni, Longoni risponde presente ma Balducci si fa trovare pronto nel primo caso e anche su possibili tampi vincente a cura di Monaldi. I padroni di casa a questo punto insistono in traversone proveniente dalla parte opposta che aveva colpo di testa attenti ma Balducci c'è. Lo stesso portiere deve ripetersi quando la distanza è chiamata a nuovo intervento e a scomodarsi anche sul colpo di testa a cura di Puglisi. Su fine di prima frazione il calcio piazzato di Gravino è una comoda presa per Balducci. I Perticara chiude il tempo questa girata di Girardi bloccata da Petrucci mentre collega con lo stesso numero alias Becchi Manzi alza la mira. Si va a riposo solo 1-1. Lo stesso Becchi Manzi nel corso della ripresa verrà stesso a terra così da Magrini che rimede il rosso lasciando la squadra in 10 uomini. Il Morciano a questo punto cerca di approfittarne ma i pericoli dalle parti di Balducci non creano grattacapi. In grosso non inquadra lo specchio della porta e a diri vero i portieri risultano inoperosi. Vedere per credere questi due tentativi da una parte e dall'altra ben lontani dal bersaglio direttamente da calcio piazzato. L'unico pericolo arriva al fotofinish quando dall'angolo si crea una confusione in area piccola che porta al tiro Puglisi. Ma Balducci ribadisce che non è aria. 1-1 pareggio che sorride più al Perticara che in zona rossa muove la classifica che soprattutto riempie la casella in fatto di punti ottenuti in esterna. Fino ad ora rimasta a quota 0. Il Morciano giovane sì ma con elementi interessanti. Accontentarsi in questa stagione non deve essere un alibi. Provarci è d'obbligo. In attesa di ritornare a giocare le prove partite interne al proprio stadio. Bravo, bravo.